È un intervento importante, una cifra anche consistente per riqualificare tutta quest'area. L'area della stazione ferroviaria, a pochi passi c'è Borgo Rivera, ci sono le 99 cannelle. Già sono in corso i lavori, in tutta questa area si cambierà volto perché tutto il tratto delle mura fino appunto a Borgo Rivera sarà pedonalizzato. Sarà così un'area più fruibile, più accessibile per aquilani e turisti. La città che cambia volto. Il quotidiano Il Centro ha svelato il progetto relativo alla stazione alle 99 cannelle. Il comune dell'Aquila con una recente determina ha affidato l'incarico che è preliminare al progetto esecutivo per il rilievo topografico su via Tancredi da Pentima dalla stazione al bivio della Mausonia. La società Galileo Aquilana si occuperà dei rilievi. Due saranno gli elementi essenziali. Sarà pedonalizzato innanzitutto il tratto di via Tancredi da Pentima lungo le mura e che inizia dalla stazione sino alla porta di Borgo Rivera. Oltre a questo sarà potenziato l'asse stradale che permette di connettere il piazzale della stazione con la zona est, evitando l'attraversamento ferroviario raso esistente in prossimità della chiesa della Madonna del Ponte e il fiume Aterno, riconnettendosi così alla Mausonia. L'asfalto nella zona pedonale sarà sostituito da pietra locale. Il progetto prevede anche la realizzazione dell'illuminazione ed elementi di arredo urbano. Nei pressi di Borgo Rivera è prevista una nuova piazza che guarderà roio, un nuovo spazio collettivo insomma per i cittadini e per i turisti, molto importante in un'area appunto turistica che ospita già la fontana delle 99 cannelle e il Munda. L'intervento più squisitamente tecnico prevede invece la realizzazione di una strada a doppio senso, eliminando il passaggio a livello di via Madonna del Ponte con due passaggi carrabili soprelevati, per superare in questo modo ferrovie e fiume. Nel progetto ci sono anche due parcheggi che permetteranno l'accesso pedonale a Borgo Rivera, un progetto questo da ben 8 milioni di euro che trasformerà completamente la zona spesso interessata da problemi di traffico.